La situazione internazionale, con speciale riferimento al contesto regionale, alle sfide che l'Europa è chiamata ad affrontare. Sono stati questi alcuni dei temi al centro dell'incontro tra Papa Francesco e il Presidente della Repubblica di Slovenia, Borut Paor. Nel corso dei cordiali colloqui, ha reso noto in un comunicato la Sala Stampa Vaticana, sono state evocate le positive relazioni bilaterali anche nella prospettiva dell'imminente ricorrenza del 25esimo anniversario delle relazioni diplomatiche tra la Santa Sede e la Slovenia e si sono passati in rassegna alcuni temi di comune interesse riguardanti l'attuale situazione del Paese. Ci si è quindi soffermati sui buoni rapporti esistenti tra la Chiesa Cattolica e lo Stato e sull'importanza del dialogo nell'ambito di una loro proficua collaborazione per il bene della società slovena, in particolare delle giovani generazioni.